let's go sono qui in compagnia di braca e bene mi è arrivato questo pacco è arrivato un pacco da quello che penso sia razer penso il primo pacco gli altri ne devono arrivare e dentro c'è qualcosa tu basta questa cosa penso si rompi qualcosa dentro e dentro ci sarà qualcosa allora ho deciso di fare un unboxing c'era pure braga e lei era più curiosa di me di quello che c'è qui che c'è qua dentro non lo so c'era lei che girava tipo sul pacco non sei curioso io adoro i pacchi piano vado a prendere le forbici so già cosa c'è dentro ci dovrebbe essere almeno una cuffia non spoilerare ma dovrei già sapendo cioè so che mi hanno mandato la fine mi hanno chiesto a me cosa comunque sono proprio curioso di provare sono proprio curioso di provare le cuffie della razzer anche io no 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 io c'ho anche erro di questa cosa non lo fa a plop guardiamo a Danello allora ragazzi signori e signori abbiamo qui solo i bamboni in atteprima nelle super cuffie ma queste sono bellissime perché sono bellissime falle vedere bene avvicinati allora verdi colore proprio razzer si è così vero? si è così e comunque queste sono un paio di kraken la versione pro in questo caso proprio il verde della razzer e come ti sembra? massimo portabilità massimo comfort e beh c'è i padiglioni da 50 mm cioè sono tipo dei cosi così veramente c'entra tutto l'oretti in modo che potete stare comodi ti piacciono? si perfetto questa è la prima cosa grazie per questo regalo poi non è per te non ti preoccupare questo è una cosa particolare questo è una cosa particolare perché è particolare spiega? e beh tutto questo qui è solo per xbox one non so se funziona anche sul 360 comunque è un controller fatto dalla razzer si chiama wildcat da utilizzare sulla one in questo caso è tutto rimappabile ha degli analogici particolari beh sotto come potete vedere da qui se si riesce a vedere nel frattempo mentre la apre abbiamo l'ultima cosa che è quella che più mi serviva perché avevo bisogno di una tastiera dato che chi è stato in parti con me sai che ho praticamente una sorta di tastiera della IBM tra un po' quelle proprio tutt'uno di grosse ignoranti infatti fa schifo e fa schifo e in questo caso mi hanno mandato una Black Widow Ultimate una comunque delle più utilizzate sono contentissimo perché cioè mi serviva una tastiera ora così potrò nerdare ancora di più a Counter Strike e ad Overwatch sentite qualche rumore sentite qualche rumore? ho ti adoro il rumore della tastiera si ma questo rumore bello si guardate che professionalità anche l'astuccetto ah questo facciamolo vedere che secondo me è una figata comunque mi serviva questa tastiera che non ce ne frega niente comunque il pacco è finito c'erano solo queste tre cose c'è proprio l'astuccetto che se poi te lo devi portare magari fuori è buono pure se lo devi mettere dentro una valigio qualcosa perché non si rovina è abbastanza duro figo con il simbolo dell'art ora facciamolo vedere momento di silenzio comunque questo qua è l'astuccino è bello molto figo allora aprile 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 qua lo secondo me da volendo questo così si può vedere wow figo ah scusatemi mi sono scoperto mi ero preso benissimo guardate com'è è uguale a quello della One che invece lo che ha aspetta un secondo ha un taglio qua come potete vedere taglio qua per non li far vedere ha un taglio qui per renderlo più comodo questi sono i tasti laterali remappabili qua ne ha altri due tra l'altro come potete vedere che uno preme facendo questo quindi carino ma non so quanto possono essere utili questi due questi sotto comunque sono abbastanza comodi se vedete comunque gli analogici sono particolari come potete vedere ricordano quelli della 360 senza i piccoli pezzetti diciamo che non vi fanno scivolare il dito infatti ho paura che facciano scivolare un po' ma non lo so lo devo provare c'è pure il simbolo della rete come vedete qui laterale e gli analogici come sono sono bassi comunque come potete vedere quindi questa è una cosa che mi piace e abbiamo un'altra sorpresina sembra un po' comodo questo pad cosa c'è all'interno? all'interno della stuccetto c'è l'accessory pack oltre al cavo che facciamo vedere tra l'altro il cavo è quello proprio della One e bisogna dire che anche l'allaccio di sicurezza se giocate con il cavo e passa qualcuno un cane o qualcosa non vi tira giù la console non vi lancia il pad ma si stacca bene e cosa c'è qua dentro? qui dentro abbiamo questa specie di adesivi che servono probabilmente ah da me vedere sui fa grip come potete vedere ok e poi ci sono questi qui oh ho detto prima che praticamente vediamo oggi sembrano guarda quello gli serve per questi qua dietro si per regolare l'altezza ah ok aspetta un secondo allora questo serve per regolare è un mini cacciaviglio praticamente penso l'altezza o comunque se uno vuole rimuovere i tasti questi qui dietro laterali grazie a questo cacciaviglio rimuovendo le multifunction triggers per rimuoverli e qua abbiamo due piccoli cuscinetti oh ruvidi come potete vedere che si mettono sull'analogico le cuffie sembra natale che bello oh ora è un'altra sensazione questo qui lo uso per giocare ora a dark soul 3 dato che ce l'ho sulla one io cambio di inquadratura bene lei tanto ha aperto le cuffie ha aperto le cuffie facciamo vedere tanto poi ci sono gli adesivini da mettere ovunque si cazzo però volevi tatuaggi quelli tipo tamarli quelli che si levano avete presente? quelli che si facevano in spiaggia ecco come sono? bello va vedere se ho finito ah il microfono ecco facciamo vedere una cosa il microfono retrattile vedo più veloci dai stringi taglia finito? si quello è il microfono sassa prova prova sassa va benissimo così il lupo è uscito dal pollaio il lupo è uscito dal pollaio ripeto allora è un po' tonta non ciò si può fare niente comunque la crema è uscita dal vignetto ammazza quanti insonorizzano da paura ah poi c'entra tutto l'oricchio dentro qua vedete ha dei padiglioni veramente enormi come potete vedere e poi ha il microfono retrattile quindi che quando lo dovete portare in giro non vi serve tac chica chica lo mettete dentro l'avete fatto qui c'è il controllo si del volume microfono per mettere il muto e niente la presa con jack 3.5 quindi questo qua va benissimo per essere attaccato al mix sample controller della ps4 comunque questo è il primo pacco speriamo che arrivi subito un altro e niente cosa ne pensi? ti piace? molto bello mi piace questo se lo posso tacca in testa? mi spieghi mi spieghi mi rida una po' vabbè comunque un saluto let's go bye bye ciao ciao